Al di là della storia d'amore che caratterizza questo romanzo, il romanzo si svolge praticamente in provincia di Benevento dove c'è una delle tante aziende che si è allocata nel mezzogiorno più per prendere finanziamenti agevolati che per spirito imprenditoriale. Io li chiamo prenditori più che imprenditori. Che cosa succede? Che terminate le agevolazioni comincia a gravare il costo del lavoro per cui molte di queste realtà, tra le quali anche alcune in cui ho vissuto come responsabile del personale, delocalizzano. Cioè portano il lavoro in paesi come la Tunisia, come la Polonia dove il costo della mano d'opera è molto più basso e dove non ci sono problemi di sindacalizzazione. Quindi questa è la distorsione della globalizzazione perché la globalizzazione è un fenomeno nato per facilitare i rapporti sia commerciali sia culturali. È di sicuro una bella iniziativa, sempre nel solco della cultura che da un po' di tempo la facciarella pratica con continuità e vogliamo farlo sempre di più. Ovviamente la figura di Sergio Vitale è importante, è nota e quindi fa piacere ricordarlo in questa circostanza attraverso questo libro di cui parleremo stasera con l'autore. Sono rimasta particolarmente colpita da questo libro, ho letto questo libro, dove l'autore con grande maestia e con grande eleganza ci fa riflettere anche su quelli che sono i lati oscuri della globalizzazione. Il protagonista è Luigi, un uomo di 57 anni, atletico, che apparentemente sembra avere una vita felice, una vita serena, una vita tranquilla. Infatti sembra che abbia un po' raggiunto tutte quelle che sono le tappe dovute della vita. A vent'anni resta orfano, deve abbandonare la sua idea di laurearsi in ingegneria e comunque diventa l'uomo di casa. Poi si sposa con la donna della sua vita, con la donna che conosce fin dalle elementari, si sposa nel bellissimo Golfo di Napoli a Capodimonte, in quella basilica che è definita la piccola San Pietro. Quindi sembra che stia andando tutto bene e poi all'improvviso arriva un temporale, ma non un temporale qualsiasi, un temporale estivo che rinfresca il clima torrido e caldo dell'estate a cui segue inesorabilmente un arcobaleno. Per cui questo temporale estivo è proprio lo spartiacque della vita del nostro Luigi, in che cosa consiste in effetti questo temporale? L'azienda dove lui lavora mette in cassa integrazione straordinaria per crisi, per cui chiaramente ci saranno licenziamenti, prepensionamenti e in questo clima lui trova l'amore e addirittura avviene anche un avvenzamento di carriera.